Fortuna che non piove, se no sarebbe la causa anche del maltempo. La Lega lancia progetti, lancia idee, un'Italia diversa rispetto a quella di Renzi, con l'uomo al centro, non lo Stato, lo Stato, lo Stato, il Senato, l'uomo, la donna, la comunità. Magari qualcuno è a caccia di poltrone da altre parti, visto che noi non garantiamo poltrone a destra e manca, però noi ci accontentiamo di coinvolgere una marea di italiani come stiamo facendo, poi ognuno faccia quello che vuole.